Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video. Oggi andiamo a vedere un altro aspetto della dispersione dell'idrossioticellulosa o comunque dei polimeri in acqua quando vogliamo fare un gel. Andiamo ad utilizzare il mini-peamer. Quello che vi voglio mostrare non è il discorso che il mini-peamer non è utile, anzi il mini-peamer è molto utile. Alcune volte però dobbiamo stare attenti perché non sempre è utilizzabile, in quanto l'elevata velocità di rotazione delle lame può distruggere i nostri polimeri. Però noi utilizzeremo il mini-peamer più che altro per disperdere le particelle e quindi cercare di formare il gel. Ora facciamo tutto il procedimento e poi alla fine vediamo quali sono gli accorgimenti da adottare. Un altro metodo che possiamo utilizzare è quello di disperdere l'idrossioticellulosa in acqua, direttamente in acqua a freddo, così. Però dopo usare un mini-peamer affinché si possa disperdere completamente il polimero. Bastano poche frullate, così. Quando frullerete si formerà un po' di schiuma, ma non c'è problema perché questa andrà via subito. Ora lo mettiamo a riposare e poi vedremo il risultato. Bene, è passata un'ora da quando abbiamo disperso l'idrossioticellulosa con il mini-peamer. Adesso vediamo il risultato. Come vedete anche qui abbiamo ottenuto lo stesso problema del precedente video, cioè se noi disperdiamo per un attimo il polimero ma poi non lo teniamo in costante agitazione, si forma sempre il gel estremamente concentrato sul fondo e invece la parte sovrastante non gelifica. Infatti vedete io la posso addirittura separare. Questa è la parte che non ha gelificato e questo invece è il gel estremamente concentrato. Rimettiamo l'acqua. Quindi il segreto di tutto sta nella costante agitazione. È chiaro che non possiamo tenere in costante agitazione il mini-peamer per un'ora, sia perché lo strumento si scalda enormemente, ma anche perché l'elevata rotazione delle lame porta a distruzione del polimero. Facciamo adesso una prova. Proviamo a recuperare nuovamente questo gel. Come? Immergendo il mini-peamer e rifrullando per brevissimo tempo. Ok, è più che sufficiente. Dopo aver frullato con il mini-peamer questo è il risultato che otteniamo. Un sistema opalescente e ricco di bolle d'aria. Non c'è problema perché probabilmente queste bolle andranno via. Ma comunque lasciamo a riposo e vediamo che cosa succede. Ecco, questo è il risultato che si ottiene dopo circa un'oretta. Come vedete le bollicine che si sono formate quando abbiamo rifrullato il gel sono praticamente andate tutte via. Per cui possiamo dire che noi possiamo riprendere nuovamente il gel, recuperare nuovamente il gel con una piccola frullata. È chiaro che per una concentrazione di idrossito in cellulosa bassa, quindi massimo 1%, 1,5%, le bollicine andranno via, quindi il gel ritornerà nuovamente lucido. Invece se abbiamo concentrazioni superiori, beh, questo è un pochino più difficile. Le bolle d'aria non andranno più via. Possiamo mandarle via solo con l'ultrasuono, ma quella è un'altra tecnica. Ad ogni modo, come vedete, il gel è trasparente, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo recuperato nuovamente il sistema, quindi questo è facilmente utilizzato. Nel prossimo video invece andremo a vedere come utilizzare l'agitatore magnetico.